I am Groot, stagione 2, recensione in un minuto Allora, 5 corti mi sono presi tutti i 5 Devo dire che Spessamente il secondo mi è presi tutto Quello con il finto naso Groot mi ha fatto morire Anche quello della battaglia sulla neve Nel terzo corto Devo dire che sono tutti molto carini Sono corti che non fanno niente 3 minuti ciascuno per la durata di 15 minuti totale Di 5 puntate Insomma ragazzi Non potevo avere tante pretese da in Groot Già la prima stagione mi era piaciuta Questa anche perché Quando si tratta di Groot Tutto quello che riguarda Groot è bello Quindi partiamo da quel presupposto Poi È 100 volte meglio dei prodotti Delle serie di Cineplast e di Mertac Che ho visto dell'MSU Io lo classifico molto volentieri Anche questo corto sul 7,5 E noi ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti